Sì allo sgombero, ma tutelando le famiglie disagiate aventi diritto. In sintesi è la posizione presa a maggioranza dal Consiglio del Decimo Municipio rispetto all'ex colonia Vittorio Emanuele III di Ostia. Lo sgombero immediato, spiega il Movimento 5 Stelle, avrebbe creato una situazione emergenziale tale da rendere pericolosa la gestione in termini di ordine pubblico. Dello stesso avviso il consigliere PD Atos De Luca, che però, conscio di una procedura, che può richiedere ancora diversi anni, suggerisce di ospitare in alcune parti della struttura attività istituzionali e associative che ne garantiscano la guardiania e l'uso. Di tutt'altro parere i consiglieri Maria Cristina Masi e Andrea Bozzi, che in sostanza parlano di un documento fumoso e pieno di rimandi, in cui si chiede di verificare ciò che è stato già ampiamente verificato nelle commissioni competenti. Più pesante è il giudizio di Casa Pound, che insieme a Fratelli d'Italia chiedeva di usare le maniere forti. Oggi riteniamo l'amministrazione complice di illegalità e malaffare, si legge in una nota. Se ci ritroveremo a commentare un nuovo caso desiree, stavolta avremo nomi e cognomi di complici e mandanti. Infine sulla questione intervengono anche i rappresentanti CISL della Polizia Locale. L'atto approvato, scrivono i sindacalisti, non contiene alcun riferimento alla ricollocazione provvisoria dei vigili nell'ex colonia, né alla cessazione dell'affitto passivo del comando nell'attuale immobile privato di via Capo delle Armi, il cui proprietario è stato condannato per istigazione alla corruzione, cosa che a quanto pare non suscita alcun imbarazzo.